Allora eccoci, buonasera, 17 giorni, cinema da casa, cominciamo anche stasera con questa diretta e un'altra giornata per stare assieme, un'altra giornata per parlare di cinema e come sempre non siamo soli perché ormai dal giovedì alla domenica abbiamo degli amici, degli ospiti ma chiamarli ospiti non mi piace, mi piace più chiamarli amici sono degli amici che vengono con noi qui alla finestra per farci compagnia e stasera abbiamo con noi Claudia Potenza, eccoci, Claudia ciao, buonasera, benvenuta Ciao a tutti, buonasera, grazie, grazie, grazie di questo invito, diciamo che è stato un piacere Eccoci, adesso ti vediamo anche in diretta Instagram Claudia Allora Claudia senti, come sai, noi ormai sono tante sere che facciamo cinema da casa e che ci teniamo a stare con alcuni di voi per farci un po' raccontare com'è questa quarantena Com'è la quarantena Claudia? Guarda, per quanto ci sia dolore intorno, uno cerca di cogliere tutte le sfumature più profonde e cerca anche di avere quel tempo che tanto desideriamo mentre lavoriamo di continuo mentre la vita è tutta frenetica, quindi come dire, approfittiamo Ecco, io cerco di approfittare per entrare in una vibrazione positiva e quindi faccio tante cose che insomma non facevo da tempo anche rispetto alla creatività, aiutata anche dai bambini e quindi dall'intrattenerli mi prendo del tempo per me, mi prendo del tempo per meditare, per vedere vecchi film, nuovi film le serie televisive, per pregare, perché anche questo, insomma, poi ognuno ha il suo modo di interfacciarsi con l'universo però sto trovando comunque, appunto, in una cosa che non è bella intorno sto cercando di trovare tutto il positivo che, insomma, che si può Tu stasera ci hai consigliato, adesso ce lo racconterai tu, ci racconterai le sequenze che hai scelto di condividere con noi che cosa, al di là di quello che ci hai consigliato, che cosa vedi tu, Claudia, di solito cosa stai vedendo a casa, che tipo di film, per allegrarti, per sognare, film di autori che non conoscevi Sì, sto cercando di recuperare dei film di autori che conosco, magari vecchi film che però erano delle enormi lacune e che quindi uno cerca, oppure sto cercando di rivedere dei film per esempio, che ho visto quando ero tanto piccola quindi mi erano piaciuti molto, però sai, non hai quella coscienza che hai da più grande e poi sto anche vedendo le serie televisive e, come dire, mi piace molto il cinema italiano io sono molto innamorata del cinema italiano, devo dire quindi mi piace recuperare tutto quello che non ho visto sono una di quelle, diciamo, fortunate giurate dei Davide Donatello e che quindi, come dire, ha a disposizione la piattaforma per poter votare e quindi, insomma, recuperare i film che magari non hai fatto in tempo a vedere al cinema e, appunto, così e poi, sì, varie serie televisive, straniere anche, insomma, delle bellissime scoperte, devo dire comunque, è un momento in cui, ecco, io questa iniziativa vostra la trovo veramente tanto bella cioè, veramente, quando una cosa dici è speciale è speciale nel senso, è straordinaria, cioè proprio fuori dall'ordinario che in una cosa, in un periodo così ci si inventi il cinema da casa proiettato sul palazzo cioè, una cosa romanticissima, altrettutto quindi, bello, bravi questo è soprattutto grazie a mio marito senti, saluto anche Silvia D'Amico che è tornata con noi in diretta e anche Damiano Micheletto è bello perché è una sorta di cine club che, di giorno in giorno, un po' tutti gli amici che sono stati con noi poi tornano per vedere altri amici ancora mentre in diretta Facebook saluto Giulia e saluto tutto il mio ufficio che mi manca davvero tantissimo senti, Claudia, che film hai scelto di farci vedere stasera? allora, io ho scelto un film italiano degli ultimi anni ciao Silvia per onorare il nostro cinema, appunto, più recente ho scelto Indivisibili di Edoardo De Angelis che, insomma, è uno di quei film che mi è rimasto proprio devo dire, nel cuore con queste due attrici giovani straordinarie che stanno facendo una bellissima strada con altri attori meravigliosi uno, per esempio, non lo conoscevo e poi c'è Antonia Truppo che, oltre ad essere una persona del mio cuore è una collega che amo molto e che stimo e quindi ho scelto, diciamo, uno e questo tra i tre e poi ho scelto Cold War che è uno dei film, penso, che rappresenti di più l'amore del cinema anche questo degli ultimi vent'anni mi piace da morire è veramente è peculiare in tutto il suo modo di raccontare dall'inizio alla fine ecco, trovo che abbia una fine meravigliosa una delle più belle mai viste e poi la famiglia di Ettore Scola che, come dicevamo anche con te non lo so vedere spezzoni di film che riguarda la famiglia e il cinema per eccellenza nostro e anche la famiglia raccontata in quel modo però da far vedere in questo momento in cui siamo tutti tipo otto sotto un tetto mi sembrava carino direi proprio di sì direi che forse la famiglia adesso iniziamo subito con Cold War e poi proseguiamo con la famiglia e ritorniamo poi con te in diretta direi sì che forse la famiglia con tutte le famiglie che stanno vivendo questa situazione eccezionale è uno spunto interessante ecco poi un giorno ci racconteremo il post cinema da casa faremo una puntata su come si vive in famiglia queste giornate Gianluca, eccoti Claudia volevo dire ma ma perché tu non hai problemi perché non hai problemi di parrucchiere tu sei bella come il sole e noi siamo conciati come facciamolo mi prendo allora come coccolone come con la diretta di coccolone quando è stato preso dagli iracheni perché tu invece sei così bella è il motivo per cui non siamo in video eh sì di Claudia scusa dai è tutto diciamo la verità è tutto registrato poco prima che successe tutto questo noi ci siamo resi conto loro hanno avuto l'idea del cinema da casa e abbiamo tutti registrato questa cosa in studio ma sì quindi siamo con trucco in parrucco no veramente sei bella io sono sempre stata un po' ma dai dai ma che dici diciamo a Silvia ed amico che la diretta Instagram la aiutiamo si vede quando entra in diretta io la adoro è assolutamente estemporanea fammi risalutare tutti saluto anche Sara Serraiocco che ho visto che è entrata anche lei a un certo punto in diretta ciao Serretta e tutto il nostro cine club saluto anche tutti quelli su Facebook ciao a tutti oddio scusate c'è mio marito che dice faccio tutto io a casa pure i capelli di mia moglie non è vero ma non è vero non ci credo perché tua moglie è sempre perfetta è dodo è sicuro che è dodo sono certo al 100% mio marito non me li fa i capelli comunque va bene adesso oggi stasera abbiamo bevuto troppi brecchieri di vino si prepara da stamattina e banchi per cortesia no vabbè la situazione sta sta veramente prendendo una piega anomala mi ha preso una piega comunque niente mi piace ecco da quando sono piccola facevo un po' i capelli a quelle della classe così quindi diciamo viene da lì è un retaggio proprio così insomma che viene da lontano come la cucina d'altronde quindi niente la ricrescita non ce l'ho ecco ecco questo però non lo dovevi dire per tutti quelli che ce l'hanno Claudia stai perdendo follower per cortesia ti abbandonerò pure io adesso però parliamo parliamo di cinema bello iniziamo con Cold War adesso cominciamo con Cold War e non ti preoccupare Silvia d'amico ti amiamo così se non eri così non saresti stata speciale va bene chiudo la diretta però tornami dopo le prime due clip in diretta fammi la richiesta di nuovo Claudia qui è tutto un po' handmade va bene ciao 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 tra poco ciao ciao come si coppi a chiudere qui ok staremo insieme sempre e ovunque fino alla fine del mondo ora però devo dirti una cosa faccio la spia su di te che vuol dire che fai la spia ogni settimana vado da Caccia Smart che mi confesso ma non dico mai nulla che possa nuocerti la cosa peggiore è che ci prova con me cosa vuole sapere delle cose cosa hai fatto durante la guerra se ascolti Radio Liberty se possiedi dollari se credi in Dio tu ci credi io ci credo lo sapevo cazzo sono un idiota tu che faresti al posto mio sono in libertà vigilata altrimenti non mi avrebbero ammessa Victor vaffanculo porchese di merda me la caverò senza la tua benevolenza se volessi ti potrei rovinare se non mi 57 non mi avre se no se non mi avrebbero il diritto è il diritto non mi avrebbero inore bellissimo davvero ringrazio claudia e soprattutto ci ha fatto questa sera verranno fuori delle foto meravigliose grazie ad alice giannelli qui è tutto molto ciao mi appunto una zanzara bello stanno non ci si salva sta arrivando un temporale hai visto le lampi sai rieccola sai a che cosa ho pensato più di tutto in questi anni a quello schiaffo che schiaffo ah si ma io no io non non ci ho mai pensato perché tu mi hai perdonato io non mi perdono va beh adesso ti do uno schiaffo io così mettiamo tutte le cose a posto si dammi uno schiaffo a mi Io vado, chiamo Montessi Ti accompagno No, grazie Sì, ti voglio accompagnare Ti ho detto di no Aiuto Aiuto, mi Adriano E come ti potrei aiutare? Vieni a vivere con me a Parigi Ti piacerebbe Potremmo ricominciare una vita insieme Eppure vuoi che venga a Roma A fare la tua amante clandestina E ogni tanto potrei venire a far visita A mia sorella qui Che cos'è che vuoi? Sì Sì, un tassi per favore Invia Scipione, l'Emiliano 45 Grazie Adriana, Adriana ti... No, senti In tutti questi anni Quando io non pensavo a te E tu non pensavi a me Abbiamo anche avuto momenti felici Ritroviamoli Per te sarà più facile che per me Io sono sola Tu invece hai l'università I libri La politica Soprattutto ai loro Sì, ma tu Tu non ci sei mai Te ne vai ancora Te ne vai ancora Te ne vai sempre Non ci sarà un'altra volta Lo sai Lasciami andare, Carlo Lasciami Ti prego, Adriana Anche l'altra volta Te ne andassi con il temporale Non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è possibile Ti prego Mi dispiace Allora, eccoci Eccoci qua Ci senti tanto Siamo in telefonica Ci senti Claudia Allora Claudia Commentiamo Commentiamo un secondo così Perché davvero Ci hai portato Ci hai fatto vedere Dei film meravigliosi Cold War Un grandissimo Veramente folgorante Sì, sì No, guarda Io Ho amato Fazzamente Cold War E calcola che Ti do Eh In una visione Diciamo Di quelle Per chi vota All'Oscar In Italia E a un certo punto Io non avevo ancora Visto nulla Del trailer Cose Conoscevo Ida Quindi sono andata Senza sapere nulla E sono rimasta Folgorata Adesso ancora Sono un attimo Presa Perché Tra colvore E questa clip Della famiglia Mi sono Mi pianta abbastanza L'anima in tre minuti E perché Sono dei Comunque Questi amori Struggenti Ecco La famiglia Quella clip È una delle mie Preferite A parte lo schiaffo Alla figlia E mi Mi uccide Questa scena Di chi appunto A volte Non si perdona Tante cose O tante cose Perdute O tante cose Cioè Commesse O non commesse E invece Cold War Trovo che Io loro due Non so Io sono rimasta Ipnotizzata Da questa coppia Di attori Incredibilmente Belli Non belli Perché lui Non è È bello Ma non è bello E sono ipnotici Ecco La cosa Mi viene da dire di più È che Io sono rimasta Ipnotizzata Proprio Da loro Che sono in tutto il film Da lei Quando canta È incredibile Lo capisco Senti Claudia Poi dopo Noi prima che ci lasciamo Rimani con noi In diretta Instagram Perché poi abbiamo Con noi Diana Tu hai scelto Un altro film Italiano Sì Ho scelto Indivisibili Perché insomma L'ho trovato Veramente Se si può dire Concedetemelo Innovativo No? Sì E comunque Con una storia Che non Insomma Originalissima E in un contesto Veramente Come una bolla Nero Come dire È un contesto nero Ma che Che ho amato molto Insomma Ho amato molto L'ombra di questo film E comunque La luce Della 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 storia Che lui ha Buttato giù E che ha creato No? Poi è un altro modo Per parlare anche Di famiglia Perché in fondo È un'altra famiglia Ci sono altri legami Molto forti Dentro questo film Ma io Siamo rimasti Molto toccati Quando l'abbiamo Vista a Venezia Davvero un film Comunque che tocca Che non lascia Non lascia indifferenti Beh ci sono legami Forti E anche strutturali In questo Proprio visivamente In questo film Quindi ha Un'originalità Insomma Speciale Ecco È vero Verissimo Senti Claudia Allora noi adesso Ci vediamo Grazie a te Ci vediamo Indivisibili E subito dopo Rimani con noi In diretta Così noi avremo Diana Che ho visto che è entrata Anche lei in diretta E tu però rimani In diretta Instagram Con noi Va bene? Passiamo insieme Questa serata Un abbraccio Proseguiamo Grazie millissimo Ciao 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 Vai Aspetta Vai 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 Lascia lì Lascia lì Vabbè 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 Sessanta sei Quindici Cinque Sei due Ma che serve Sto numero Ma che serve Vabbè Magari C'è questo Il vino C'è questo Sessanta sei Quindici Cento sei Tua C'è questo Tua 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 è tardi mamma sto fumo a prima volta mi stai detto dicendo buongiorno amore sono il caffè buongiorno faccio il dolore in mezzo mi pente mi tolgo con tutto il cuore dei miei peccati perché peccando mi ha dato il tuo castigo e molto più perché ho fisso di infidamente buoni e temi di essere amata sopra ogni cosa provo un tuo santo aiuto di non offendertimi più e di fuggire l'occasione prossima di peccato signore misericordia e perdonami io ho 6 settembre e io no io mi sono scendata ma perché sta fatto tutto stato di dolore quando ha fatto questo peccato non lo so però stanotte mi sono fatta un suono troppo strano mi sento che ho già peccato perché si rieglia tutto di dolore poi mi sentirei poco e ci ho sicuro eccoci eh posso? mi c'è che porta a me allora ragazzi noi adesso abbiamo in diretta telefonica intanto con noi poi vediamo se riusciamo a fare anche la diretta con con Diana abbiamo in diretta con noi Diane Flery telefonica aspettate un attimo eccoci Diane ciao buonasera ciao ciao che bello sentirvi dai è bello sentirci intanto poi se riusciamo a fare anche il video va bene ma a noi è bellissimo che sia la prima volta però non ti preoccupare qua è tutto una prima volta Diane Silvia Silvia entra nelle dirette tu telefoni avete fatto anche un film assieme siete perfette voi due insieme Diane e Silvia eh io sto cercando ero in diretta adesso sto cercando di fermarci anche perché non mi voglio perdere gli spezzoni di quello che metterete perché mi voglio emozionare insieme a voi quindi ci riuscirò sì ci riuscirai intanto però mentre tu aggeggi su tutto quanto raccontaci come passi le tue giornate Diane come sono queste giornate un po' speciali chiamiamole così io ho la fortuna di avere di avere una famiglia numerosa cioè siamo già in sei compresi la tata quindi abbiamo il nostro piccolo mondo e ci stiamo godendo al meglio questo momento così difficile cerchiamo di tirarne fuori la parte migliore poter stare insieme e stare vicini questo fondamentalmente è poter stare insieme poi certo lo starei fuori io perché ho scelto non so se avete già messo avete già cominciato a proiettare qualcosa o ancora non ci siamo no 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 tranquilla tranquilla continua a parlarci ancora tra l'altro io posso dire i film che ho scelto sì puoi assolutamente dire i film che hai scelto allora io ho scelto due film che vengono dalla mia infanzia e penso dalla infanzia di tutti noi perché ho proprio bisogno di cose universali noi in questo momento in cui ci sentiamo tutti in una bolla chi sta solo chi con famiglia hai bisogno di quelle cose che parlino a tutti quanti allora ho scelto fantasia sì perché non c'è niente di più universale della musica del disegno e poi appunto quello è un film un disegno cartone animato onirico che parla veramente a tutti senza lingua senza che supera tutto quello spero che abbiate preso quello antico non quello nuovo rifatto perché secondo me abbiamo preso quello antico quello antico vai e vai sono contenta e poi l'altro film che ho scelto è sempre della vacanze romane vacanze romane perché quando ero piccola io Gregory Peck era il mito dell'attore maschile del sogno ecco c'è mia figlia che arriva saluta ciao e Audrey Hepburn era la principessa del mondo cioè il mio sogno d'attrice era Audrey Hepburn quindi vederli insieme era il massimo e io ho visto quel film quando ancora non conoscevo Roma perché per me Roma era quel sogno e oggi mi sembra che quel sogno è lo stesso dentro casa nel senso che si vede la stessa Roma in sogno come da bambina e per cui anche bisogna di rivedere di rivedere appunto una Roma felice una Roma da sogno è una Roma anche sì anche per il turista perché io sono arrivata qui in fondo all'inizio era un po' una turista anche se bambina e poi alla fine mi sono rimasta qui e mi è venuta anche l'accento romano e tutto il resto però insomma Roma poi di entra dentro è difficile liberarsene però rimane quel fascino non lo perde mai e adesso penso che ne abbiamo tanto bisogno perché abbiamo tutti i sedi proprio di rivedere anche le vie del centro di Roma anche la folla anche tutti in Roma abbiamo bisogno di stare in sé di goderci la nostra città ci siete? sì ci siamo ti stiamo ascoltando ci piace ascoltarti hai ragione visto che non ti vediamo ti ascoltiamo Diane comunque hai ragione mi sembra dai riprovaci fai un tentativo comunque sì mi sembra che la tua scelta sia tutta legata al sogno tra l'altro in diretta Facebook mi stanno chiedendo Diane la vorremmo rivedere sul grande schermo o ci manca ci racconti un pochino quando vi rivedremo a te e anche a Silvia insieme in questa cosa che avete fatto sì allora sì abbiamo fatto beh non so quanto io posso raccontare in realtà perché poi ogni volta che parlo faccio degli app ma sì ma spoileriamo un po' ma dai su dirò che il film è di un bravissimo regista che si chiama Marcello Di Noto alla sua opera prima anche se ha già fatto cose ultra premiate che mi sembra proprio al Festival di Roma se non sbaglio che era un corto che si chiamava Bella e Paccio e in questo film ci siamo Silvia D'Amico appunto Antonio Folletto Borrelli e poi io basta mi emoziono non mi ricordo più i nomi però insomma è un film molto molto originale è una cosa che abbiamo fatto quest'estate in Puglia al mare al sole fuori oddio non mi ci fate pensare va bene speriamo di vederti presto di vedervi presto e speriamo soprattutto che i cinema riaprano presto Diana ce lo auguriamo davvero tanto che i cinema riaprano presto che il sole che ci facciano anche godere quest'estate questa nostra Italia che è tanto bella da passeggiare da vedere le persone tutti insomma siamo proprio il paese più sbagliato per farci rimanere dentro caso da un certo punto siamo bravissimi a farlo e sono contenta che insomma lo stiamo facendo nel migliore dei modi però insomma stiamo senti ci meritiamo anche di goderci senti Diana noi allora adesso ci godiamo i film che ci hai suggerito quindi Fantasia e Vacanze Romane poi tu sarei tornata in qualche modo in diretta intanto Instagram con noi che Silvia chiede di te non ci legge ma come funziona questa diretta scrive Silvia d'amico quindi per favore rientra in diretta almeno scritta ti vogliamo leggere Diana facciamo partire Fantasia rimani intanto al telefono bacio ciao 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 allora Diana adesso aspetta che ti riprendo in diretta perché non posso assolutamente adesso ti vedrò lo so me lo sento devo spingere qualcos'altro in attesa di Diana allora aspetta un attimo vediamo un po' se ce la facciamo ce la faremo ce la stiamo per fare ce l'abbiamo fatta ecco Diane Flery nella sua prima diretta Instagram ragazzi grazie ragazzi sono molto felice mi fa di crescere ma è un quadro meraviglioso Diana un quadro meraviglioso hai visto lo sai chi l'ha fatto no mio suocero abbiamo pure il suocero pittore ma è fantastico hai visto sì e quelli lì siamo io e mio marito tu e tuo marito eh bene non me lo dico in questo modo così serio che mi inquieti va bene tu e tuo marito no vabbè perché in realtà non siamo sposati non so mai come definirlo è così il padre dei miei figli va bene va bene sembra brutto sembra che non siamo più insieme hai ragione va bene te e tuo marito ma è uguale insomma ormai questa quarantena anche lei ci ha fatto sposare tutti senti Diane ascolta dopo fantasia ci hai veramente fatto sognare un po' il sogno no mi dici che meraviglia che meraviglia vedere fantasia sui muri di Roma adesso veramente grazie è stato stupendo mi hai emozionato veramente non mi aspettavo così però poi vedere il disegno è un po' come vedere i dolci nel cibo i dolci prima di mangiarli te li godi al solo guardarli perché sono belli li fanno sognare sono magici appartengono alla parte più infantile di noi è ugualmente fantasia credo che vada proprio lì devo dire la verità anche Damiano Micheletto l'altra sera ci ha fatto sognare anche con musica e colori è stato fantastico avrebbe apprezzato anche lui la tua scelta quindi grazie per averci portato un po' di sogno perché noi abbiamo scelto le 22 proprio per cercare di andare a dormire con il cuore un po' più sereno se ci riusciamo in queste giornate quindi è perfetto veramente senti Diana ascolta noi adesso facciamo vedere l'altro film che ci hai proposto Vacanze Romane e quindi io adesso chiudo la diretta in modo che si vedano meglio le immagini e poi ti riprendo in telefonica per salutarti va bene? va bene grazie è stato è stato bello fare questa cosa assieme a te ciao un bacio ciao 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 non è lussuoso ma è intimo signore e signori avvicinatevi prego su altezza reale sono al testo urvaiano la bellezza di lei e di lui altezza reale i rappresentanti della stampa estera grazie a tutti a tutti grazie a tutti Adesso su Altezza risponderà alle domande che vorrete fare. Come Decano dei Corrispondenti Esteri ho l'onore di esprimere a nome dei miei colleghi il piacere di vedere Vostra Altezza ristabilita. Grazie. Vostra Altezza crede che la forma federativa progettata possa risolvere i problemi economici dell'Europa? Sono sempre favorevole alle iniziative che possono giovare alla cooperazione dei popoli. Vostra Altezza crede che vi siano possibilità per una reale intesa fra le nazioni? Ci credo fermamente, come credo all'amicizia fra la gente di paesi diversi. Posso dire, parlando a nome della mia agenzia, che la fiducia riposta da Vostra Altezza, noi crediamo non andrà delusa. Sono felice di sentirvelo dire. Quali delle città visitate è piaciuta di più a Vostra Altezza? Ognuna nel suo genere... Ognuna nel suo genere è indimenticabile. Tuttavia potrei dire... Roma. Roma. Sì, Roma, senz'altro. Il ricordo di questa mia visita non mi abbandonerà, sin tanto che vivrò. Malgrado l'indisposizione di cui Vostra Altezza ha sofferto? Sì, malgrado ciò. Su Altezza concede di farsi fotografare. Grazie, signor. Grazie, infiniti. Vorrei conoscere di persona qualcuno dei rappresentanti della stampa. Sono felice di conoscervi. Grazie. 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 Grazie a Vostra Altezza qualche fotografia per ricordo della sua visita a Roma. grazie a Vostra Altezza. Grazie a Vostra. Grazie a Vostra. Grazie a Vostra. Moriones. Grazie a Vostra. Sì, è l'onore. Stephen House, the London Exchange Telegraph. Ah, l'onore. De Valdezio, agence presse. Grazie. 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 Diana, eccoci. Ho visto come dice Odre, Roma, sì, tutte le città, ma Roma. Roma, Roma, sì, però Roma, in particolare Roma. Salutiamo Paola Calabresi che è in diretta Facebook, Lidia Vitale che ho visto qui insieme a Silvia. Vi salutiamo. Ciao, ciao a tutti. Senti, Diana, grazie per averci fatto sognare e per essere stata con noi. Va bene? Grazie a voi, veramente, di tutto cuore. Un abbraccio e ci vediamo prestissimo tutti dal vivo. Saluti a tutta la tua fantastica famiglia. Un bacio. Resta in diretta Instagram. Ciao, ciao. E adesso, onestamente, ci siamo fatti un piccolo regalo e abbiamo deciso di concludere con Monicelli e di andare a dormire così. Speriamo che vi piaccia. Voi sapete chi io sia? Noni. Avrete sentuto, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle. Moi coverto. Groppone da Figulle fu lo più grande capitano di Tuscia. E io sono colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti. Lo mio nome est Branca Leone da Norcia. Ulrico, signore di queste terre, fa offerta allo vincitore di questo torneo della nomina a gran capitano d'arme, nonché della mano di sua figlia Lucrezia. Fate conto che Branca Leone da Norcia ave già in pugno la nomina e lo ricco matrimonio. Quindi sgombrate, omeni da poco, voi e lo vostro misero feudo pugliese. Vignedi, bestiame, è mare pescoso, da facere a mezzo. Ed inoltre, ponilo bene a mente, vecchio. Branca Leone da Norcia non fece mai a mezzo con nessuno. Vai, vai, chiudete. Ma rimane la bestia. Tira dall'altro lato. A dove sarebbe questo feudo? L'uomo allo mio servizio non teme né piova né sole né fuoco né vento. Lo quale servizio? Siamo tutti allo pari. Silenzio! Io mi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Lo nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce. Oh, va bene. Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi. Ma infine avremo castella ricchezza e bianche femmine dalle grandi pub. Baccone, n'alza le insegne. Non le tengo! Bene. E tu levale in alto. E voi, bifolchi, ponetevi all'ombra di esse. Escite dalla fanga. Che io farò di voi cinque un'armata veloce e tardita. Siamo quattro. E io farò di voi quattro un'armata veloce e tardita che sia Veltro e Lione al tempo il stesso. Avanti verso Auro Castro nel coro di Puglia. Avanti! Avanti! Avanti, miei cagliardi! In marcia! Ma dove va quello là? E' qua! Cedetelo passo. Cedetelo passo tu? No. E' a te cedere, io sono cavaliere. E io che sono? Le hai viste le schiere mie? O non hai occhi? Nelmeno quanto tu hai la lingua. Allora è lo cervello che ti ammanca. Ma forse. Ma non lo corre. A piedi o a caballo? No, no, caballo no. A piedi. Lo nome mio è Brancaleone da Norcia. Io sono Teofilatto dei Leonzi. Famiglia bizantina discendente da Niceforo I. Primo ti vedo e ti piango. Paccone! Fanci vedere chi siamo, Duce! Come si è successo Pausole. Come se senti? انjati! Cari! Evi! Salto lo kono! Régua? Poi, Régua? E tu? Sia, Régua. Asha? Eh? Noviko, Asha? Asha! Scudero! Asha! Spavato! Non era ancora tanto? Attenzione! Tregua! Smordi voi, scifonai! Vabbè, davvero come sempre Monicelli ci ha fatto divertire e noi ringraziamo Dian Fleri per essere stata con noi, ringraziamo Claudio Potenza, ringraziamo Silvia, ringraziamo Lidia, tutti gli amici che ci sono venuti a trovare anche stasera, chi in diretta Instagram, chi in diretta Facebook, chi sta facendo rimbalzare il messaggio, chi sta proponendo una programmazione sulle altre finestre, sono tante, in particolare ringrazio Bologna e Torino che tutte le sere programmano come noi, anche Parigi, anche Catania, davvero sono tante le finestre che adesso hanno voglia di aprirsi sul mondo. Grazie a tutti e come sempre il saluto del nostro fonico! Buonanotte e ci vediamo domani! Ci vediamo domani! Va bene, buonanotte e ci vediamo domani! Un saluto a tutti da Cinema da Casa! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!